Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come LDA dopo l'avventura ad amici ha raggiunto consensi davvero incredibili e il suo successo è inarrestabile. A quanto pare è ricascato nuovamente in qualcosa che ormai lo caratterizza. L'ex alunno del talent di Maria ha intrapreso il suo percorso carico ma anche un po' spaventato per la paura di non essere preso sul serio. Questo perché il cognome che porta ovvero D'Alessio e la fama del padre, il grande Gigi, non è sempre stato vissuto con leggerezza dal giovane cantante. LDA ha fatto un percorso straordinario all'interno di amici ed ha raggiunto traguardi che nessuno poteva immaginare. Si è guadagnato il consenso del pubblico e ora si è assestato tra i cantanti più ascoltati di quest'estate 2022. Qualcosa lo ha sorpreso di nuovo e ha voluto condividerlo coi suoi followers. Che cosa è successo? LDA ci ricasca ancora. LDA è uno degli allievi più apprezzati di questa edizione di Amici. Ha iniziato il percorso al talent credendo di non essere preso sul serio o di essere additato come raccomandato per via di suo padre Gigi D'Alessio. Il confronto col padre è stato inevitabile anche all'interno del programma di Maria. Nonostante i pregiudizi si è fatto conoscere e ha evidenziato la sua vena artistica personale che si discosta molto dal genere del padre. Ha raggiunto traguardi importanti nel format mediaset come il disco d'oro e successivamente di platino. Non è riuscito però, nonostante il successo ottenuto, ad arrivare tra i finalisti. Ma non appena rientrato alla quotidianità di sempre si è reso conto di quanto abbia costruito e di quanto le persone lo apprezzino. Lui aggiorna i fan sui social quotidianamente e nelle scorse ore ha reso partecipi i followers di ciò che gli è capitato, di nuovo. Di cosa si tratta? Breve storia triste. L.D.A. interagisce spesso coi fan e li aggiorna sia riguardo all'ambito musicale ma mostra anche la sua vita e momenti divertenti con gli amici. Ha mostrato ai fan una tipica giornata in barca con gli amici ad Amalfi. Durante la giornata ha fatto vedere tuffi, risate e momenti divertenti finché non ha aggiornato i fan di qualcosa che lo stava letteralmente mandando a fuoco. I suoi compagni di avventura per tutto il giorno hanno consigliato a L.D.A. di mettersi la protezione solare perché stava rischiando grosso ma niente da fare. Ci è cascato a piedi pari come ogni anno e come capita a molti di noi. A fine giornata ha rivelato di essersi ustionato e di non aver accettato i consigli dati. Ha affermato, so che non sono l'unico e ha accompagnato la storia con la frase breve storia triste. È davvero una cosa comune a tutti quanti e ogni anno si ripete in perterrita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Grazie per aver guardato il video.